Metta, fa tre, due, uno, siamo in onda, vai! Buongiorno signore, possiamo intervistarla? Buongiorno, buongiorno. Lei in che rapporti era con la vittima? Eh, la vittima era mia madre. Ah, quindi è molto dispiaciuto? No, affatto. E qual è il motivo? Eh, perché così mi posso prendere tutta l'azienda farmaceutica e tutti i soldi. Quindi non ero in buoni rapporti? No, per niente. E dove era il momento del decesso? Non sono tenuto a dirlo. Perché? Mi avvalgo del quinto ammendamento. Va bene, grazie, ripasseremo più tardi comunque, non si preoccupi. Buon lavoro, arrivederci. Salve, arrivederci. Arrivederci. A dopo.